Musica In questa puntata di Unicam News, grandi emozioni per i 400 partecipanti alla festa della laurea 2019. Educational del Museo delle Scienze dell'Orto Botanico di Unicam per presentare le loro attività. A Camerino il via i lavori per la realizzazione di alloggi per studenti donati dalla Croce Rossa italiana. Interessanti novità per il corso di laurea magistrale in architettura Unicam. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Emozioni ed entusiasmo nel pomeriggio di sabato 21 settembre in occasione dell'appuntamento con la festa della laurea. La cerimonia di consegna delle pergamene di laurea a coloro che si sono laureati nel corso dell'anno accademico 2017-2018. Anche quest'anno a fare da scenografia all'evento è stato lo spazio a Gorà del Campus Universitario di Camerino. Invaso da 400 laureati e laureate delle 5 scuole d'Ateneo. Architettura e design, bioscienza e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute e scienze e tecnologie. Accompagnati da familiari e amici provenienti da tutto il mondo. La cerimonia presentata quest'anno da Alvin Crescini, noto volto televisivo e voce radiofonica, si è aperta con il saluto del rettore Claudio Pettinari a tutti i presenti. Ed è proseguita poi con l'esibizione del rapper Moreno che coinvolgendo il rettore e tutti i laureati presenti ha dedicato la sua performance di freestyle alla cerimonia e alle laureate e laureati Unicam. Ciao, il messaggio ti arriva non rimane nello spam, faccio questa roba e te la faccio solo per Unicam. Io sono More, dimmi ancora schiaccia play e se non sbaglio era il 1336, ci siamo conosciuti a musicultura, questione di architettura. Io sono More in freestyle le conoscenze, lo faccio così tanto mentre tu dici bioscienze. Sono quello che a far freestyle è troppo figo, mentre la ragazza mi fa il video. Preferivi i diplo in questa zona? Invece Moreno si prende sto diploma. Ascoltavo tecno per le vie e non scienze e tecnologie. Faccio questa roba mani in aria perché c'è anche la veterinaria. Ehi, Moreno è l'amico di Maria. Faccio questa roba mentre tu vai in farmacia. C'è così tanto caldo che mi sembra una sauna. Faccio questa roba e te lo dico c'è una laurea che ti spaventa. Ma è così tanto avanti che devi gridare se prendi 30. Non è mica un complotto. E se non prendi 30 poi prenderai 18. More, lo senti e lo richiami. Faccio questa roba e te lo dico che io supero gli esami perché sono nella storia come rode. E a far freestyle sono 30 e lode. Il rettore ha poi consegnato le pergamene di laurea a tutti i partecipanti e alla presenza dei prorettori Graziano Leoni, Andrea Spaterna e Luciano Barboni dei direttori delle scuole d'Ateneo e del direttore generale Vincenzo Tedesco. Nel corso dell'evento inoltre Unicam ha salutato ufficialmente anche i propri dipendenti sia docenti che tecnici amministrativi che hanno lasciato il servizio nel corso dell'ultimo anno. La cerimonia è stata ufficialmente aperta dalla Coro Universitario Cappella Musicale del Duomo di Camerino diretto dalla maestro Luciano Feliciani. Un momento che è unico per il nostro Ateneo. Spero di trasferire ai ragazzi quell'emozione che noi viviamo tutti i giorni lavorando proprio per questa attività che io considero la più bella attività che un docente, che un professore, che un ricercatore possa fare la formazione dei giovani, la loro qualificazione la loro preparazione e infine la concessione a loro di quel privilegio che consentirà di lavorare per il futuro, per il mondo, per il nostro territorio. Si è svolta come di consueto anche quest'anno la giornata di Educational nel corso della quale il Museo delle Scienze e l'Orto Botanico Unicam hanno presentato ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine grado il programma delle proprie attività didattiche ed espositive programmato per l'anno scolastico 2019-2020. Quest'anno l'evento è stato proposto sia nella sede di Camerino che in quella di Civita Nova Marche per poter raggiungere un numero maggiore di insegnanti. I partecipanti hanno potuto quindi avere tutte le informazioni anche sulle novità proposte quest'anno con percorsi che vanno dalla biologia alla geologia dalla botanica all'astronomia. Novità 2019 è infatti il Planetario che offrirà fantastiche esperienze spaziali e che sarà inaugurato proprio il prossimo venerdì 27 settembre in occasione della Notte dei Ricercatori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito osma.unicam.it Si è tenuta lo scorso sabato 14 settembre la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione di alloggi per studenti nell'ala del nuovo campus universitario. Il progetto reso possibile grazie al sostegno della Croce Rossa italiana, del governo canadese e della Croce Rossa canadese rientra nell'ambito delle numerose attività e iniziative avviate dalla Croce Rossa italiana in seguito al sisma che ha colpito le regioni del centro Italia. Io penso che con la prima pietra di oggi dovremmo immaginare fine gennaio di vedere queste due importanti costruzioni che daranno la possibilità di far stare una cinquantina di studenti nella foresteria e quindi dare l'opportunità di stare nel luogo a vivere l'università. Noi siamo sempre stati vicino all'Università di Camerino in questi tre anni e la posa della prima pietra di oggi è la risposta a quello che Croce Rossa italiana e canadese vuole dare a tutti gli studenti e alla comunità di questo territorio nelle Marche meraviglioso. Le università esistono perché ci sono gli studenti che studiano al loro interno. Gli studenti per studiare hanno bisogno di ambienti idoni e sicuri. Dobbiamo costruire degli ambienti idoni, sicuri, moderni come questo campus vuole essere e questo è stato possibile grazie ad una donazione cospicua, significativa promossa dalla Croce Rossa sezione locale sezione marchigiana portata all'interesse della Croce Rossa nazionale che si è fatta sostenere anche da investitori di Croce Rossa canadese. E tutto questo grazie anche al sopporto di un comune che ha indicato nell'Università di Camerino un soggetto importante per lo sviluppo e il mantenimento del lavoro su questi territori. Ad ampliamento del campus universitario verranno realizzate due palazzine a schiera costituite da 17 stanze singole e 13 stanze doppie per una capacità di 43 posti letto in totale. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte autorità istituzionali e locali rappresentanti della Croce Rossa italiana della Croce Rossa canadese e rappresentanti del governo canadese. Importanti novità per il corso di laurea magistrale in architettura della Scuola di Architettura e Design per l'anno accademico 2019-2020. Rispetto all'impostazione tradizionale del corso di laurea infatti alcuni aspetti della vita e dell'insegnamento accademico saranno nuovi. A presentarli agli studenti sono stati nei giorni scorsi il direttore della scuola il professor Giuseppe Elosco e il coordinatore del corso di laurea il professor Marco D'Annunzis. L'aspettativa è che questa riorganizzazione del corso di laurea magistrale in architettura ponga Ascoli all'interno del panorama dello scenario delle facoltà di architettura nazionale e internazionale come una sede di eccellenza sia da un punto di vista delle risorse umane cioè per la qualità dei docenti sia per l'organizzazione del corso che abbiamo allineato con questa riorganizzazione agli standard, migliori standard europei. In particolare il corso propone tre ambiti tematici denominati cluster clima, riferito a tutti gli aspetti della progettazione che subiscono l'influenza immediata o potenziale dei cambiamenti climatici e tecnologici patrimonio, che comprende tutto il menu dei temi relativi alla conservazione rigenerazione, trasformazione dell'esistente e metropoli che ingloba tutti i fenomeni legati al rapporto tra insediamento umano e luogo, al di là della distinzione tradizionale tra città e campagna. Bene, io mi fermo qui non ci sono altre notizie vi ricordo che Unicam News andrà in onda sempre mercoledì prossimo alla stessa ora e vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito www.unicam.it a tutti voi grazie per essere stati con noi e buona serata